Passa da meno 54,7 milioni di euro del 2016 a più 8 milioni di euro per il 2018. Il bilancio di ANM partecipata della Napoli Holding, società a partecipazione totalitaria del Comune di Napoli, guidata da Amedeo Manzo. Tappa importante nell'ambito delle attività preliminari alla valutazione del concordato preventivo richiesto il 22 dicembre 2017 e seguito dal piano di concordato presentato il 3 luglio 2018. Riqualificazione dei conti, efficientamento dei processi, contenimento delle spese e contrasto all'evasione. Questo ci ha consentito di approvare i bilanci arretrati 2016-2017 e fino ad arrivare ad approdare a un utile di più 8 milioni. Questo è frutto del rilascio di una serie di fondi certificati dalle tre società di revisione che lavorano congiuntamente a noi, Price, Ernest & Young e Deloitte, ma soprattutto una grande e forte opera di contrasto all'evasione che ha consentito di aumentare quei ricavi diretti che vicino a quelli rigidi, cioè i conferimenti di regione comune, fanno sì che i conti sono diventati da rosso profondo a frutto di una opera trentennale di disattenzione, sono arrivate ad essere positivi. Appuntamento fondamentale domani, dunque 2 luglio, quando ci sarà l'incontro proprio per scongiurare il fallimento di ANM. Manzo evidenzia in retroscene le tappe fondamentali di questa lunga cavalcata verso il salvataggio dell'azienda napoletana Mobilità. Aspettiamo un esito positivo, un'omologa del concordato. A questo punto l'azienda è salvata, vengono salvati i posti di lavoro, viene salvato il TFR, vengono in un certo senso protetti i diritti dei fornitori, delle banche e anche dei dipendenti. Però ora, dopodiché, salvata l'azienda, perché le cose vanno fatte una alla volta, si passerà poi a un miglioramento del servizio su cui i vertici di ANM devono lavorare. Grazie a tutti.